Olio sempre protagonista. Anche quest'anno Regione Toscana, Union Camere Toscana e Metropoli, l'azienda speciale di Camera di Commercio di Firenze, hanno organizzato un seminario tecnico per tutti gli assaggiatori di olio della Regione. Durante il seminario, che si è tenuto a Villa Montepaldi a San Casciano, sono stati resi noti i risultati del Ring Test. Il Ring Test è una verifica circolare, la traduzione letterale è questa, ovvero vengono messi in relazione i panel tra loro, sottoponendogli dei campioni che sono stati predeterminati per le loro caratteristiche e conseguentemente su questi campioni si cerca di fare in modo che i panel si allinei nel giudizio, nel modo più preciso possibile, sia per quanto riguarda l'aspetto dei difetti, ma col tempo il Ring Test regionale si è anche evoluto, cercando di dare una definizione di quelli che sono anche i pregi. Con l'assaggio si riconosce un olio che ha dei problemi, quindi dei difetti, da un olio che è buono, non presenta difetti, anzi presenta delle caratteristiche positive all'odore e al sapore. Stiamo creando questa Scuola dell'Olio che è un centro molto importante per la ricerca, la formazione e la diffusione della cultura dell'olio. Si aggiornano, si forniscono tutti gli elementi nuovi della ricerca e nello stesso tempo si cerca di trasmettere appunto i risultati della ricerca ai produttori, agli operatori che in qualche maniera riescono a essere informati delle novità. In questi corsi non tutti gli allievi superano la prova perché, dalle nostre statistiche, circa un 20% di persone non è capace, non ha delle caratteristiche proprie, diciamo, per poter assaggiare. Chi supera la prova di assaggio, questo primo step per divenire assaggiatori, dopo deve fare delle sedute di allenamento e si tratta di 20 sedute di allenamento che servono per esercitarsi e prendere pratica nell'assaggio dell'olio vergine di oliva. Dopodiché, effettuate queste 20 sedute di assaggio, è possibile iscriversi presso l'elenco nazionale degli assaggiatori. Noi siamo capaci addirittura di analizzare l'olio sensorialmente e dire se sono presenti o no difetti, quali difetti presenti che dipendono sempre da un errore commesso nella lavorazione e addirittura l'intensità. Quindi è diventato ormai al pari di analisi chimica. Come per tutti i prodotti a denominazione, anche quindi per l'olio toscano IGP, è previsto una verifica, un controllo indirizzato sulla parte organolettica del prodotto. In questo campo noi forniamo delle informazioni da un lato ai produttori per ottimizzare i propri prodotti e dall'altro delle indicazioni per la comunicazione delle proprietà sensoriali dei prodotti stessi e quindi per garantire una possibilità di successo ai prodotti combinate con le strategie di marketing. La Camera di Commercio non si limita in realtà solo alle attività certificative, ma eroga anche contributi a favore di progetti che valorizzano determinate filiele produttive, in questo caso la filiera dell'olio. Abbiamo avuto nel nostro recente bando domande non solo per la valorizzazione dell'olio, della produzione dell'olio, ma anche della valorizzazione dell'intera filiera. Un esempio molto semplice è l'utilizzo dell'olio nei prodotti cosmetici. Grazie. 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 Grazie.